Mi bacia il primo ragazzo che incontro Bello questo ascensore Il gruppo consigliare Cavace Appartiene Democratici ha votato in maniera difforme A parte il capogruppo Armando Lamberti che ha votato a favore I consiglieri Salsano e Leo si sono astenuti Vogliamo spiegare per quale motivo? La nostra azione comincia già da qualche mese Da quando il sindaco ha ritenuto opportuno far rientrare in maggioranza il gruppo di azione Che si era comportato in maniera scorretta più volte Da subito noi dicemmo che la nostra posizione era incompatibile con quella di azione E quindi avanzammo delle proposte per poter divenire ad un accordo E proseguire questa consigliatura Ma così non è stato Il sindaco è stato sempre sordo rispetto alle nostre richieste Non ultimo è quello fatto nel penultimo consiglio comunale Quando il nostro capogruppo professore Lamberti Si alzò e lesse un documento Motivando il suo voto favorevole Proprio per dimostrare un'apertura Mentre le nostre due astensioni Nell'ultimo consiglio comunale Diciamo che gli orientamenti erano completamente diversi Visto che in un mese e mezzo non c'è stata questa possibilità di interloquire con il sindaco È chiaro che noi avevamo inteso come un rifiuto a ragionare e a discutere con questo gruppo Il professore ancora una volta contraddicendosi Anche rispetto a tutto ciò che era stato il nostro percorso Ancora una volta aveva inteso alzarsi e fare un Ritenuto opportuno alzarsi e fare un ulteriore Intervento ripetendo quasi completamente ciò che era stato detto un mese e mezzo fa È chiaro che noi non potevamo subire quest'altra provocazione Io ricordo a tutti quanti che questo gruppo nasce soprattutto per difendere Dalle tante offese ricevute dal professore Armando Lamberti Dalla maggioranza e dallo stesso sindaco Quindi in effetti sorge proprio per dare solidarietà ad Armando Lamberti E non capisco questo suo giravolt La stima e il rispetto verso il professionista e l'uomo Armando Lamberti rimane la stessa per carità È certo che politicamente le nostre strade si dividono Abbiamo due modi di interpretare la politica È un poco come, devo essere sincero Mi è venuto subito a mente, siccome sono un appassionato di sport E più volte ho seguito il calcio E molte volte vedevo degli ottimi giocatori Però restavano sempre in Serie D e in Serie C Quindi restavano sempre nell'ambito del dilettantismo E una volta un allenatore, Paolo Braga, in tribuna mi disse Mi ha detto, sì, quello è bravo, però c'è un difetto E mi fece vedere il difetto Ecco il difetto di Lamberti è venuto fuori Poi non c'era il presupposto, visto che quell'atto, siccome era un atto tecnico E io avevo assicurato che comunque passava Tant'è bene che è passato con diversi voti di differenza Però il segnale bisognava darlo Purtroppo lui è ritenuto di percorrere un'altra strada Ma un segnale che, tutto sommato, non so quando gli è convenuto al sindaco Perché diciamo che le richieste fatte dallo stesso consigliere Armando Lamberti Non sono di facile soluzione Anzi, tanto è vero che l'ottimo sindaco Servale Perché il fatto, bisogna dirlo, è un ottimo equilibrista Ha parlato sempre in politichese Però per chi come me sta data una vita in un ente legale Sa che non ha risposto a niente Cioè in effetti compatibilmente con le esigenze di bilancio Significa già da adesso dire no a tutte le richieste fatte da Lamberti Tant'è vero che per trovare l'equilibrio di bilancio Hanno dovuto recuperare 650.000 euro Quindi quando si vuole si può in politica Per quanto riguarda la nostra posizione Non indietreggiamo rispetto a niente Capisco che l'ecumenico Lamberti Si sia fatto un po' condizionare da tutte queste processioni Insieme al sindaco e anche per questa forza pur do votare Così come l'allontanamento di alcuni consiglieri del centro d'est Questo è possibile su un atto tecnico Non penso che la stessa cosa possa essere fatta successivamente su atti politici Secondo me è una consigliatura che sta arrivando al termine alla fine Anche perché 12 voti significa che in effetti nessun atto può essere votato con l'immediata eseguibilità E già questo significa rallentare fortemente l'azione amministrativa Un'azione amministrativa già lenta Quindi l'esperienza di Cava ci appartiene democratici possiamo dirlo è fallita? Ma non c'è bisogno neanche di dirlo Quando un capogruppo piglia una posizione completamente diversa dagli altri due È finita ma è finita perché in effetti è venuto meno proprio lo spirito che ci accomunava E soprattutto visto che stiamo in termini di regate Perché oggi ci siamo tutti quanti appassionati alle famose regate con Luna Rossa È stato il sindaco che ha voluto strambare scegliendo un'altra ventata Vediamo un attimo se questo vento lo porta al traguardo Io penso di aver scelto la strada giusta Visto che le strade con la maggioranza ormai sono sempre più distanti È compatibile ancora il suo ruolo di presidente del Consiglio Comunale? Cosa dobbiamo aspettarci? Io non sono nominato dal sindaco Io sono stato eletto Quindi sono ruoli completamente diversi C'è una possibilità Però persone esperte come Barbuti Non la percorrono perché sa benissimo Eppure Barbuti diciamo che è il referente principale di questa amministrazione Tanto è vero che si parla più che amministrazione Servalla Amministrazione Barbuti E non la percorre perché sa che è un boomerang contro di loro Ma esiste comunque una possibilità E io l'invito a farlo per carità C'è la sfiducia motivata Loro devono motivare un'eventuale sfiducia richiesta Come la motivano? Che non appartengo più alla maggioranza Ma questa non è una motivazione valida Quindi se loro si sentono forti c'è questa possibilità Sfiducia motivata si chiama Anzi io l'invito a farlo così ci contiamo